Ehi, prima di iniziare il video fai un salto su pamplin.com Trovi tantissime magliette e molto altro con nuovissime offerte ogni settimana E con il codice Jaxed avrai anche delle calze in omaggio Link in descrizione e nei commenti E rieccoci ragazzi con Loki Recuperiamo in questo video sia il terzo che il quarto episodio In questi giorni sono stato un po' occupato con Marvel Experiment 2 Che mi ha preso un po' di tempo Ma adesso recuperiamo queste due puntate e rimettiamoci in pari Terza e quarta puntate ragazzi che sono due puntate opposte Il terzo episodio secondo me è proprio una merda Mentre il quarto è stato molto più interessante Ma partiamo chiaramente dal terzo per ordine Terzo episodio ragazzi che si perde completamente per 40-50 minuti Alla ricerca, all'inseguimento del Kanga Che fa parte di un altro universo, insomma di un'altra linea temporale Infatti vanno a finire tutti nel 700 se non sbaglio Abbiamo questo Kang di quell'epoca sempre molto intelligente Sempre insomma particolarmente brillante Ma anche un po' goffo, un po' stupido Non è il Kang sicuro di sa il Kang che abbiamo visto diciamo Nella prima stagione di Loki oppure in Entertainment 3 È un Kang che ancora non ne sa niente di viaggi nel multiverso Eccetera 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 Però Loki, Mobius e la TVA hanno bisogno di lui Per risolvere il problema appunto del multiverso Che sta per esplodere con tutte le linee temporali Insomma che stanno andando a farsi benedire E quindi tutta la puntata e questo diciamo Inseguimento nei confronti di questo Kang Con Loki e Mobius che cercano di portarlo alla TVA Sylvie che invece cerca ancora una volta di ucciderlo Sylvie veramente ragazzi Sylvie è proprio un personaggio di merda Ma che cazzo di personaggio Un personaggio che si lamenta soltanto Un personaggio che poi sbuca Sembra quasi che sbuca a caso Non si capisce se sta dalla parte di Loki Non si capisce se vuole ammazzare Kang Un personaggio un po' indeciso Ma non penso che sia voluto dalla sceneggiatura Penso che sia proprio una roba che non hanno saputo gestire È dall'inizio della serie che vediamo che si lamenta della TVA Abbiamo capito santa miseria Basta, basta Non ripetere sempre le stesse tronzate È veramente un personaggio pesante Poi abbiamo anche il personaggio di Ravonna Ve lo ricordate quel personaggio che diciamo Stava tra quelli in alto della TVA In questa puntata scopriamo anche che lei Era proprio al fianco di Kang Avrebbe dovuto diciamo insieme a Kang Dominare tra virgolette il multiverso Ma Kang le ha cancellato la memoria Per insomma continuare il suo operato da solo In compagnia di Miss Minutes Tra l'altro questa intelligenza artificiale che ritorna Innamorata persa poi di Kang Che roba un po' strana Però insomma ragazzi la puntata è questa Vediamo Loki che cerca di portare questo Kang Alla TVA, Sylvie che cerca di ucciderlo Ravonna che vorrebbe stare al suo fianco Ma che comunque anche lei punta al potere Tutte queste stronzate qui Miss Minutes che invece vorrebbe stare al fianco di Kang Senza di lei Insomma è un continuo tradissi diciamo tra questi personaggi Ognuno ha le sue idee Ognuno ha i suoi bisogni E la puntata insomma è questo Si perde semplicemente in questo Roba che secondo me si poteva anche un po' Stringere in meno In meno tempo E poi ragazzi Arriviamo quindi poi alla quarta puntata Che ripeto è molto più interessante La terza che secondo me allunga di parecchio il brodo Quarta puntata invece è molto interessante Perché succedono delle robe che di solito in un quarto episodio non fanno accadere Ma che magari ti fanno accadere sul finale Per poi lasciarle aperte e riprendere chissà quando Questo Kang quindi che vi dicevo che hanno ripreso da un'epoca diversa Finalmente riesce ad arrivare alla TVA Loki e Mobius finalmente riescono a riportarlo alla TVA Dove incontra Obi Il diciamo tecnico della TVA I due iniziano a chiacchierare Entrambi sembrano aver appreso l'uno dall'altro Perché questo Kang ha letto il manuale della TVA Scritto da Obi Ma Obi ha letto le istruzioni della TVA Da colui che rimane Quindi insomma si è creato un paradosso E insieme devono quindi costruire un marchigegno Per cercare di fare in modo che le linee temporali Riescono a confluire senza diciamo esplodere Senza implodere Poi vabbè spiegano un sacco di cose tecniche Ma secondo me esagerano anche perché tendono un po' a confonderti Anche se poi insomma è chiaro quello che devono fare Vediamo queste linee temporali che si stanno ingrandendo sempre di più E che non riescono a passare all'interno di questa sorta di tubo Che vediamo al di fuori della TVA come se fosse nello spazio E niente praticamente bisogna con questo macchinario che creano Obi e Kang Inserirlo all'interno di un apparecchio in modo tale che poi si riesca a gestire queste linee temporali Ed è una punta interessante perché è una corsa contro il tempo Terremoti dappertutto insomma è un continuo casino Abbiamo poi Ravone e Miss Minutes che continuano a rompere le scatole Arrivano alla TVA Rapiscono nuovamente Kang È una continua lotta ragazzi A chi riesce a strapparsi questo cavolo di Kang tra le mani Poi a un certo punto succede una cosa importante Ovvero alla TVA salta tutto Nel senso che ogni sistema di sicurezza salta perché insomma sta tutto implodendo Sta tutto per distruggere Miss Minutes riescono anche a spegnere grazie ad Obi che riesce ad accedere ai sistemi Sempre queste stronzate E in questo modo finalmente Loki e S3B possono utilizzare i loro poteri Perché all'interno della TVA se avete notato non si possono utilizzare i poteri Infatti non vediamo mai Loki utilizzare Altrimenti forse avrebbe un attimino fatto prima alcune cose Vediamo che grazie ora all'utilizzo dei poteri I personaggi come Ravona vengono subito sconfitti Con X5, D5 Non mi ricordo a me come si chiama quel personaggio Che hanno buttato completamente a caso Che è uno diciamo dei cadetti poliziotti da TVA Che hanno introdotto a caso durante questa stagione E che l'hanno reso importante senza motivo Cioè dal secondo episodio che questo personaggio Brad, ora mi è venuto in mente il nome E dal secondo episodio che è diventato importante Senza però un motivo Cioè che sa fare sto personaggio? Che importanza ha? Comunque l'hanno messo in mezzo E ogni tanto sbuca fuori Prima ancora però Ravona aveva anche ucciso Tutti quelli che insomma Avevano distrutto le linee temporali Che si stavano creando E quindi insomma Abbiamo fatto fuori anche questi personaggi Molto velocemente E sul finale vediamo che finalmente Il momento in cui stavano per sistemare Questa situazione delle linee temporali Che stavano insomma per distruggere tutto E nel momento in cui Kang decide di avviarsi In questo percorso Quello che ha fatto Mobius qualche puntata fa Per riportare Loki nella linea temporale giusta Non appena esce fuori insomma dalla TVA Viene distrutto e diventa insomma Un pacco di spaghetti che fluttuo nell'aria Quindi incredibile È morto un altro Kang Oppure era tutto voluto dal Kang Che poi è morto da un Kang ancora al di sopra Che non abbiamo visto Non lo possiamo sapere È un bel casino Però la quarta puntata È stata bella proprio per questo Perché non ti aspetti che Kang schiatta Da un momento all'altro Loki riprende i suoi poteri Insomma adesso È un bel casino perché Le linee temporali Sono completamente esplose E quindi non sappiamo Quali sono le conseguenze di questa Di questa cosa E voglio capire adesso dove andremo a parare Con gli ultimi due episodi Che spero siano molto interessanti Quindi ragazzi Stagione che non mi sta facendo impazzire onestamente Quarto episodio si carino Interessante Ma comunque È sempre una scrittura abbastanza goffa Abbastanza Lo sappiamo ragazzi Lo sappiamo Quali sono i problemi Vedremo dei cambiamenti Forse l'anno prossimo Quando arriveranno altri progetti O tra qualche anno in più ancora Per adesso Insomma È un po' così È un po' così Speriamo che almeno il finale Riesca ad essere interessante E che Che abbia degli svolti interessanti Ma vedremo Vedremo Per adesso È un po' così A volte interessante Spesso no Speriamo che almeno Si salvi il finale Detto questo Fatemi sapere voi Cosa ne pensate E noi ci vediamo con Loki Con il quinto episodio Sperando sia Molto più interessante Del quarto Che già Aveva qualche Situazione interessante Vediamo se il quinto Può dare ancora di più Fatemi sapere la vostra Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti